e io ho cominciato a perdere i capelli in alcune zone piccole quindi tipo chiazze macchioline intorno ai 24 25 anni il che per quanto non sia una un canito ossessionato dall'estetica però avere dei buchi in testa non mi faceva strassare no conosciuto in sparia di nome e sicuramente sui social inizialmente poi quando aperto a milano ho letto qualcosa riguardo anzi più di qualcosa poi mi ha incuriosito e poi me l'hanno consigliato mi è sembrato un centro molto molto serio mi sono ricordo da inspari ho fatto la prima visita e mi sono trovato subito sicuramente a mio agio poi una cosa che mi è piaciuta molto e a cui ho tenuto molto era un effetto finale naturale quindi io non sono diventato esteticamente diverso da quello che ero 15 anni fa dopo i primi risultati dall'intervento che devo dire sono arrivati forse dopo due mesi dopo due tre mesi i primi perché un percorso un po più lungo avere i capelli dove non c'erano non dovremmi più preoccupare se piovigina se c'è vento perché non ci sono più quelle zone vuote e vuoi dire che mi ha cioè mi sono tolto un pensiero tra l'elenco di pensieri che ho tutti i giorni quindi io sono un terzo di processo perché poi per 18 mesi c'è un follow up e sono molto soddisfatto consiglierei a chiunque ha un problema con i propri capelli di ricorrere all'intervento raccomanderei inspari e l'ho anche già fatto quindi sono molto soddisfatto penso di non essere solo anche perché ho visto qua un sacco di gente sorridente e felice grazie a tutti